Questa notte sono giunto al termine di un lungo cammino. Ho fatto una grande scoperta. In casa del dottore Henry Jekyll... Buongiorno, signore. ...viveva una cameriera di nome Mary Riley. Io qui mi sento al sicuro. Ho deciso di prendermi un assistente. Il suo nome è Edward Hyde e avrà libero accesso in questa casa. Avete visto il suo viso? È venuto fuori dall'oscurità come se egli stesso ne facesse parte. Quasi tutti hanno paura di lui. Ma tu no, non è vero? No, signore, non ho paura. Mary Riley. Lei ha intuito la verità. Quando avete visto l'ultima volta l'assistente del dottore, il signor Edward Hyde? Mary, vestiti per favore. C'è una faccenda urgente che devi sbrigare per me. Ma protegge il suo segreto. Signore, lui ha detto che voi avete una malattia. Potresti definirla una frattura nella mia anima. Lei soffre con lui. Doveva venire di persona a pulire quello che ha fatto quel cane idrofobo. Vorremmo ispezionare il laboratorio del dottore. Non credo che ci sia qualcuno, signore. Sa di essere l'oggetto della sua passione. Lui aspetta che mi addormenti per potermi distruggere. Quando sei vicino a me lo sento fremere di impazienza. Vai! Giulia Roberts John Malkovich Tu sai chi sono, non è vero? Mary Riley Un film di Stephen Frears Grazie a tutti.